Il podcast è ora iniziato, tutti gli attenti sono in modo di ascoltare. Oggi parleremo di un approccio nuovo, nuovo tra virgolette come vedremo, per affrontare i dati, la statistica, lo studio dei processi, quella che una volta veniva chiamata anche business intelligence. E tutto ciò va sotto una parola, un termine, che viene tanto per cambiare dagli Stati Uniti, e si tratta appunto di data science, la scienza dei dati. È una disciplina assolutamente figlia dei tempi moderni, diciamo, una disciplina che è nata perché oggettivamente a un certo punto se ne è sentito il bisogno. E voi direte, ma com'è possibile che in realtà qua non abbiamo mai sentito questo bisogno? Il problema è che, come al solito, questo tipo di novità, diciamo, scientifiche, culturali, arrivano dagli Stati Uniti e poi lentamente si spargono per il resto del mondo. Soprattutto in Italia tendiamo a essere un po' indietro su queste cose, solitamente. Però non è mai tardi per rimediare. Infatti lo scopo di oggi è di fare un po' di divulgazione su questo tema. Per sensibilizzare su quella che è la cosiddetta cultura dei dati. Allora, la data science, come potete leggere in questa slide, è una scienza interdisciplinare che ha per scopo la creazione di soluzioni guidate dai dati. In inglese direbbero data driven, ok? Ovvero che estraggono informazioni utili dai dati per migliorare il business e possibilmente quindi il fatturato. Dove migliorare il fatturato può voler dire sia incrementarlo, sia magari lavorare su quello che è il margine utile. Perché magari si riesce ad individuare delle sorgenti di spreco che possono essere limitate e ottimizzate. E come vedete, da quello che c'è qua sotto, che è uno dei grafici più tipici, perché è storicamente uno dei primi comparsi riguardo a data science, questa disciplina si compone da diverse aree di studio. Quella parola hacking skills va inteso secondo quello che è il senso originario della parola hacker. La parola hacker originariamente non era riferita a un pirata informatico, ma semplicemente a un esperto di informatica, e non solo di informatica, anche fondamentalmente di algoritmi, che voleva sapere fino nel dettaglio come funzionano le cose nel mondo digitale, chiaramente. E per fare questo si arrivava a sapere così tante cose che a un certo punto chiaramente un hacker era in grado anche di usare questa conoscenza per fare atti criminali. Chiaramente sì, però è come avere un coltello in mano, può essere usato per fare del male o per tagliare la bistecca, quindi non è un termine che va visto come negativo a priori. Senz'altro non lo è in questo contesto. Poi vedete, chiaramente abbiamo matematica e statistica, perché da lì non si scappa quando si vuole fare un'analisi dati, non si può prescindere da queste competenze. Il cerchio sotto invece, vedete, esperti della sostanza, diciamo, oppure altra volta lo troverete come domain expertise, vuol dire semplicemente conoscenza di quelle che sono le business rules, cioè i driver principali di un certo settore di business. Quindi io mi occupo di produzione di autovetture, ok? Devo sapere come funziona il mio mercato, il mio mondo del lavoro, quali sono le variabili, quali sono i pesi, eccetera, eccetera. Idem, faccio il medico, devo conoscere la medicina e il mondo della clinica, e così via. Poi vedete, queste discipline possono sovrapporsi in alcuni settori, in alcuni punti, e dare luogo a se stesse a degli incroci, quindi c'è tra matematica e esperienza forte dal punto di vista informatico, è nata la machine learning, quindi le reti neurali, classificatori, eccetera, eccetera, tutta una serie di algoritmi predittivi e metodi computazionali per predire comportamenti. Poi abbiamo la ricerca tradizionale, c'è un'area pericolosa, come viene definita, tra un esperto di sistemi informatici e un esperto di un certo settore, perché chiaramente se io conosco molto bene il mercato finanziario e so muovermi nella rete può essere una zona pericolosa, ecco, l'insieme di tutto ciò vedete al centro Data Science. Questo termine non è recentissimo, perché ci sono degli spirali su questo tipo di visione delle cose che risalgono a decenni fa, però il vero boom è venuto con l'affermarsi di quelli che vengono chiamati big data, con l'affermarsi di diversi strumenti, anche open source e non solo, commerciali open source per analizzare le dati, la disponibilità di strumenti informatici più potenti, lo sviluppo di algoritmi più sofisticati per l'analisi e così via. Quindi a partire dal 2010 più o meno è veramente esploso negli Stati Uniti, come vedremo, perché c'è una letteratura che testimonia tutto questo. Vedete, quindi facendo un riassunto della slide precedente, copiando un po' quello che è lo schema di un altro famosissimo diagramma che trovate in rete se cercate Data Science su Google, questo è una visione un po' più espansa della cosa, quindi ingegneria dei dati, metodo scientifico, matematica, statistica, calcolo avanzato, perché magari si può parlare di calcolo parallelo, calcolo distribuito, visualizzazione, perché i dati da soli non sono nulla, se non un enorme potenziale. La visualizzazione, cioè ottenere delle informazioni che permettono di avere veramente un sapere utile, quella è un'arte e spesso la visualizzazione aiuta moltissimo in questo senso, quindi tramite grafici o quelle recentissime tecniche di infographics che si usano molto su riviste tipo Wired, Scientific American, che comunque hanno un forte impatto. Dal punto di vista dell'hacker, quindi hacker mindset, è domain expertise, questo per dare un'idea. Ok, quindi come nasce il problema? Il fatto è che a partire dalla fine degli anni 90 più o meno, le aziende hanno cominciato a investire moltissimo, in modo diretto e indiretto, in infrastrutture capaci di raccogliere dati. E oggi come oggi ci troviamo che virtualmente ogni aspetto di qualsiasi business produce e raccoglie dati, perché è molto difficile trovare un'attività che non sfrutti dei dati e non ne produca essa stessa. Quindi ci ritroviamo oggettivamente invasi da fiumi di dati che arrivano da tutti i settori, però attenzione perché i dati da soli, come dicevo prima, sono assolutamente inutili, perché i dati da soli non raccontano nulla, racchiudono un'infinità di informazioni, ma da soli non dicono assolutamente nulla, è come un blocco di marmo, un bel parallelepipedo di marmo, ok? Poi può arrivare l'artista come Michelangelo a tirare fuori una statua che rimane famosa per nei secoli, oppure rimanere un blocco di marmo che dice tutto e niente. Quindi è importantissimo capire la differenza fra dati e informazioni. Data science è proprio un insieme di principi e metodologie per far sì che questi dati producano delle informazioni utili. Questo è il concetto fondamentale. E come cercherò di farvi capire, questo processo non è un processo semplice. Quindi, perché questo, da dove siamo arrivati fondamentalmente? Prima avevamo tante discipline, alcune discipline ben distinte, la statistica, l'informatica, la ricerca di base, i businessmen, esperti di marketing, esperti del settore specifico, tutte figure indispensabili, ma a un certo punto non più sufficienti se prese singolarmente. Tipo lo statistico è un tempo quando i dati non erano così tanti, quando non c'era tutto questo mondo social che unisce, corrella dati a tutte le parti. Gli analisti e gli statistici potevano fare, tra virgolette, a mano analisi sui dati. Ma adesso i dati, a parte essere veramente tanti, sono anche molto eterogenei, quindi bisogna talvolta utilizzare tecniche che richiedono, per esempio, la pulizia dei dati, la preparazione dei dataset e tante altre attività che magari sono più di competenza degli informatici, che dispongono appunto dello strumento informatico, però non hanno una specifica competenza, per esempio nella statistica, nella scienza di base, e spesso sono molto lontani dal mondo reale del lavoro. Gli scienziati di base, quindi i fisici, i matematici, hanno il metodo analitico, perché quella è l'unica roba che fondamentalmente, come è arrivato in fisica e matematica, si porta fuori dall'università, di veramente spendibile sul mercato, intendo chiaramente. Conosci modelli matematici, eccetera, però per esempio manca nella sua formazione l'informatica, manca la statistica che è più tipica degli statistici, e soprattutto, ahimè, spesso siamo, mi metto in questa categoria, persone molto lontane come formazione da quello che è il mondo del business, perché sono formazioni che non danno nulla in tal senso, ma è anche giusto, per carità, chiaramente. Poi ci sono invece i cosiddetti businessmen che conoscono molto bene l'ambiente del loro lavoro, però chiaramente non sono statistici, non sono informatici, non hanno un metodo analitico che può avere un matematico. E quindi, mettere insieme queste competenze un po' in una singola persona e un po' soprattutto in un team di persone produce quello che è il data scientist. Il data scientist, chiaramente, voi lo potete immaginare, non si può formare in accademia con gli studi, a me capita ogni tanto che ci scrivano dei neolaureati, così che ci chiedono come fare per diventare data scientist. E purtroppo la risposta non si risolve con... Ecco, questo è il libro, studia, come può essere il Montgomery per la statistica o certi libri per la fisica quantistica. Ecco, no, questo non esiste, perché, dato proprio il carattere interdisciplinare dell'approccio, del metodo, è una cosa che si acquisisce con l'esperienza e nel tempo. Perché magari uno parte dalla formazione scientifica e dopodiché si avvicina all'informatica, poi entra in contatto col mondo degli statistici, assorbe qualcosa da lì, nel frattempo sta facendo il consulente, quindi comincia a conoscere un po' di realtà, di business diverse, dal tessile, la produzione del silicio, produzione di pezzi per macchine, eccetera, eccetera, la fornitura di servizi, e quindi comincia a mettere insieme i pezzi, ci aggiunge quel tocco di creatività che è fondamentale, perché a ogni caso è a sé stante, e comincia ad assumere il profilo del data scientist, persona quindi che parte da una formazione specifica su un settore e poi decide che non è contento e continua a studiare allargando il suo settore di conoscenze ad altre cose. Tipicamente sono formazioni che comunque partono dalla matematica, dalla statistica o l'informatica, non è difficile che partano per esempio dal marketing o tantomeno dalla giurisprudenza, partono comunque fondamentalmente, solitamente, poi ci sono sempre gli outlier e le eccezioni, ma fondamentalmente si parte da lì. Ecco, dove troviamo in azione la data science? Fondamentalmente ci sono alcuni settori che per loro stessa natura richiedono molto un approccio interdisciplinare come il marketing, anche il controllo qualità a volte, la finanza, l'ambito farmaceutico è moltissimo, la medicina clinica, tutto il mondo dell'ingegneria sociale, quindi diciamo il social, il mondo per esempio degli attuariali e della detection delle frodi, quindi sia nelle situazioni che nei movimenti delle carte di credito, eccetera, ma fondamentalmente potremmo generalizzare, dire che dovunque ci siano dei dati, la data science è un approccio moderno, attuale, in grado di fornire quel qualcosa in più per far sì che i dati diventino uno strumento veramente importante di crescita del business e come dicevo prima, chiaramente questo succede molto negli Stati Uniti, come vedremo, vi farò vedere dei libri, degli articoli e degli esempi in cui ciò è avvenuto e avviene fortemente, ma molte aziende hanno fatto la differenza proprio grazie alla gestione dei dati, perché hanno imparato a guardare il business dal punto di vista dei dati e quindi da lì hanno imparato a estrarre informazioni utili. Questo è un approccio che oggi come oggi in un mondo in cui molti mercati sono ormai saturi, pensate per esempio a quello delle telecomunicazioni, è fondamentalmente l'arma vincente. Oggi come oggi, prima di passare a questo esempio di Walmart, quindi non vi distrago con quella slide, oggi come oggi, pensate al mondo delle compagnie telefoniche per esempio, tutti hanno una SIM, quasi tutti hanno un cellulare, quindi diciamo il mercato fondamentalmente è saturo, perché tutti già hanno un telefono cellulare e una SIM. Quindi quello che fanno le compagnie telefoniche adesso si divide in due tipi di attività. Uno, evitare di perdere i propri clienti. Due, cercare di prendere clienti a un'altra compagnia telefonica. Basta, questo è. questa attività di cercare di evitare di perdere i clienti si chiama churning, ok? Cioè è una, scusate, si chiama churn prevention, quindi la prevenzione del churn, perché il churning è, questo termine viene dall'inglese in italiano non c'è un equivalente, il churning è il fenomeno per cui un cliente di per esempio Vodafone prende e passa a Telecom, ok? Per prevenire queste cose, parlo di un lavoro fatto in un passato recente per una grossa compagnia telefonica, si analizzano tutta una serie di dati storici, dati da moltissimi indici che descrivono tutte le attività fatte da tutta la base di clienti della società e si va a cercare di individuare un modello che aiuti a predire quando un cliente sta dando segnali che molto probabilmente lo porteranno a disdire il contratto e passare ad un altro operatore facendo questo e questi modelli poi chiaramente funzionano cioè aiutano veramente a prevenire il churning chiaramente non con un successo del 100% questo è impossibile però comunque aiutano concretamente permettono all'operatore di intervenire prima che il cliente sia veramente stufo o ormai conquistato dall'offerta di un competitor si agisce per tempo quindi quando io mi accorgo che un cliente sta per stufarsi del mio servizio lo contatto direttamente quindi sono proattivo sul cliente e gli faccio un'offerta irrinunciabile e ciò comunque guadagnato perché ho evitato di perdere il cliente esempio adesso passiamo a un altro tipo di esempio parliamo degli Stati Uniti dove Data Science è nato Walmart è una catena di megastore molto famosa negli Stati Uniti diffuse su tutto il territorio è un colosso dal punto di vista della distribuzione e quindi si può permettere anche di fare ricerche e investire in queste cose allora voi sapete che gli Stati Uniti sono famosi anche per gli uragani in particolare la Florida ebbene nel 2004 la Florida fu colpita da un uragano chiamato Charlie e in seguito dall'uragano Francis però cosa hanno fatto con grande lungimiranza perché eravamo ancora nel 2004 quindi questa era un'attività era un'attività non comunissima hanno deciso di sfruttare l'evento uragano in qualche modo non è una cosa brutta semplicemente dal punto di vista commerciale hanno detto ok cos'è successo prima che venisse l'uragano Charlie visto che la gente viene avvertita per te ci si aspetta che corrano a comprare a fare provviste e cosa sarà mai successo per l'uragano Charlie andiamo a vedere i dati di vendita in modo tale che ora che sta per arrivare l'uragano Francis noi evitiamo di avere i negozi sprovvisti dei beni che sono stati richiesti di più l'altra volta e così hanno fatto questa analisi sono andati a vedere e uno può dire si beh cosa vuoi che abbiano venduto di più l'acqua dei cibi in scatola semplici nutrienti le robe che si conservano invece sorpresa ecco qua cosa è saltato fuori cosa che poi si è tradotta in un aumento di fatturato nelle vendite di Walmart perché ha saputo cosa doveva mettere sugli scaffali gli strawberry pop tarts che sono dovuto andarmi a cercare in internet che cosa fossero perché non riuscivo a immaginare quale americanata si potesse essere hanno avuto un incremento di oltre sette volte rispetto al normale volume di vendita questo è successo prima dell'uragano Charlie e come era stato previsto prima dell'uragano Francis e top seller pre-uragano in assoluto la birra quindi vedete al di là dell'acqua che poteva essere una delle cose più avve da pensare sono saltati fuori degli item da vendere che non dovevano assolutamente mancare negli scaffali anzi rincarati in quantità e dosi prima dell'uragano Francis ma poi Target che è un'altra catena diciamo è un competitor di Walmart risponde con una attività ancora più complessa perché l'esempio di prima era molto semplice allora l'esempio del churning è un'attività che può essere complessa perché si analizza una molla enorme di dati milioni e milioni di dati storicizzati con molti indicatori eccetera quindi è un lavoro complesso l'esempio di Walmart è veramente un esempio di base l'esempio di Target è divertente perché praticamente Target aveva questo problema che è un problema abbastanza tipico solitamente si sa che è difficile far cambiare le abitudini d'acquisto delle famiglie quindi se io compro la pasta barilla faccio pubblicità ma non compro quella comunque se uno compra sempre la pasta barilla è difficile fargli cambiare idea adesso con la sala de Cecco perché c'è un'energia di attivazione chiamala così molto alta da fornire per cambiare questi più di abitudini e quindi se volete lanciare un nuovo prodotto oggettivamente c'è da affrontare questo scoglio però altro dato che era noto quando le coppie hanno un figlio cambiano le abitudini di acquisto per motivi di salute perché insomma cambiano qualcosa nel mindset delle persone e lì è facile cambiano molte abitudini d'acquisto quando fanno la spesa quindi Target ha ragionato su questa cosa e in una prima fase triviale molto semplice ha sfruttato la lista delle nuove nascite che è disponibile perché quando nasce un bambino non è che nasce in nero viene dichiarato ok quindi la lista delle nuove nascite per promuovere gli articoli presso le famiglie che avevano appena avuto bambini e questo già li ha portati ad avere in mano una leva piuttosto forte per lanciare nuovi prodotti ma poi sono andati oltre e hanno detto vabbè ma vediamo di agire per tempo cerchiamo di essere proattivi e quindi hanno creato un modello predittivo per sapere in anticipo quando una coppia stava per avere un bambino e come hanno fatto hanno preso tutti i dati di vendita perché tanto immaginate quando avete una tessera fedeltà di un supermercato come abbiamo anche noi in Italia quindi immaginatevi in America qualunque cosa voi compriate viene registrata quindi un supermercato può sapere la singola persona che cosa compra e facendo questo e poi andando a vedere i dati delle nascite hanno cominciato a analizzare quelli che erano i segnali quindi una donna che magari comincia a comprare delle cose non ne compra più altre cambia tipi di prodotti eccetera hanno individuato in tutti questi comportamenti quelli che erano i segnali che indicavano che una donna stava per avere un bambino in modo tale che hanno potuto agire per tempo arrivare prima a cominciare a corteggiare il cliente su nuovi prodotti e quindi avere un comportamento assolutamente più competitivo e anche più efficace ma andiamo alle origini della data science questo header è il frontispizio di un articolo che è uscito sul che è stato pubblicato da Cleveland dei Bell Laboratories ora ve lo faccio vedere questo articolo non che lo leggiamo però questo era il paper è del 2001 e in questo articolo del 2001 Cleveland parla di data science e va a definire sotto questo termine quindi rendendolo un attimino più ufficiale perché prima se ne era parlato ma da questo articolo in poi è veramente cambiato l'approccio verso la disciplina ha cominciato a definire quello che è secondo lui la data science e l'ha raccontata come appunto una disciplina nuova in grado di dare un valore aggiunto nell'analisi dei dati quindi ne ha definite quelle che sono le componenti dandogli anche un peso che poi chiaramente nel tempo è cambiato ed può essere anche soggettivo come cosa però insomma ne ha definito il carattere interdisciplinare torniamo alla presentazione questo è stato uno dei primi passi importanti nella definizione di quella che è il data science e dopodiché andiamo avanti facciamo un saltone nel tempo a un certo punto Patil e Hammerbacher che rispettivamente sono dei data scientist di LinkedIn e di Facebook aggiungono autorevolezza al termine parlandone esplicitamente creando all'interno di queste due società dei team di data science e definendo si stessi data scientist tant'è vero che poi l'Harvard Business Review nell'ottobre del 2012 in questo articolo lo trovate tranquillamente in Google se cercate Data Science Harvard Business Review troverete l'articolo nel 2012 definisce la professione di data scientist come il lavoro più sexy del ventunesimo secolo dove chiaramente sexy viene inteso con il fatto che ha un forte appeal nel mondo del business perché se ne sente il bisogno come tipo di approccio e poi per fortuna a un certo punto l'onda arriva anche in Italia e queste sono due copertine allora quella sulla destra what is data science è un white paper pubblicato da Aurilli lo trovate gratuitamente in giro dove viene definito quello che è appunto cos'è la data science invece quella sinistra è la copertina di una rivista del gruppo solo 24 ore del gruppo 24 ore uscita è il numero di luglio-agosto del 2012 dove si parla di big data ma io ora vi faccio vedere in entrambi i casi andiamo a prendere allora questo what is data science è un è un white paper lo trovate gratuitamente in rete se cercate può essere interessante perché qua dentro vi faccio scorrere scusate un attimo il mal di mare che vi viene scorrendo così veloce ecco c'è ho tutto sono poche pagine chiaramente però viene spiegato molto bene che cos'è la data science cosa fa il data scientist che valore aggiunto può dare nel mondo del lavoro e così via una serie di informazioni particolarmente interessanti perché sono basate su una serie di analisi sul mercato facendo riferimento ad aziende importanti come facebook linkedin amazon eccetera eccetera questo qua invece questo articolo vedete la copertina parla di big data ma se entriamo nell'articolo che ho scannerizzato apposta per farvi vedere e andiamo a scorrerlo vedete che nell'articolo si arriva inevitabilmente a parlare di data scientist quindi vi segnalo anche il fatto che anche da noi è arrivata la voce che esiste letteratura sull'argomento assolutamente e che effettivamente chi si occupa di questo tipo di attività di questi settori sa perfettamente di che cosa si tratti e di che tipo di approccio di che tipo di supporto possa dare questa disciplina al mondo dell'analisi della ricerca e del sviluppo del business quindi questo poi era mentre il primo era un white paper questo è un articolo su una rivista a pagamento quindi facciamo finta che non l'abbiate vista tanto è solo un webinar che andrà in internet poi vi faccio vedere anche due copertine di libri di Orilli giusto per dirvi che esiste anche letteratura al di là dei white paper gli articoli eccetera esistono libri e libri sull'argomento ve ne faccio vedere due che sono in nostro possesso che ne ho comprato vedete doing data science scusate il solito mal di mare volevo arrivare all'indice vedete il libro che spiega vabbè di che cosa si tratta perché è doveroso mettere questo tipo di capitolo perché comunque è un approccio relativamente nuovo e dopodiché passa a una serie di cose specifiche quindi la statistica algoritmi di machine learning naive quindi classificatori baesiani filtri sullo spazio fa degli esempi particolari la regressione logistica vedete modelli finanziari questo libro ha dentro molti esempi concreti con algoritmi eccetera estrarre informazioni dai dati e così via l'altro libro giusto una rapida perché almeno vi caratterizzate un attimino meglio il subject della nostra chiacchierata vedendo gli indici di questi testi vedete anche questo pensare da un punto di vista di data analysis soluzioni di data science per il business modelli predittivi fitting model to data overfitting e come evitarlo e così via clustering c'è tutta una serie di di attività che sono tipiche dell'approccio della data science vedete data science dovrebbe cercare di assistere l'azienda nel prendere decisioni e nel capire dove sono i problemi quindi vedete infatti viene collegato alle business strategies eccetera eccetera questo era per darvi un esempio per farvi vedere che parliamo di una cosa che non ci siamo inventati in casa ma sta assolutamente prendendo piede e infatti visto che vuole chiamarsi data science ha dei principi di base qua ce ne sono cinque ma sono un po' di più perché gli altri poi cominciano ad essere tecnici però giusto per dare un'idea perché data science include principi processi tecniche per comprendere i fenomeni attraverso l'analisi automatica dei dati automatica tra parentesi perché io posso fare un'analisi e poi consegnare un pdf quando entro il risultato oppure posso fare un'analisi individuare un modello dei metodi dare una struttura alla raccolta dei dati creare un prototipo informatico che raccoglie gestisce archivia e soprattutto analizza in modo automatico i dati magari con dei trigger che si attivano quando succedono a certi eventi immaginate una carta di controllo succede che qualche test ne fallisce ho un avviso automatico sto raccogliendo i dati in modo automatico da qualche linea di assemblaggio da qualche processo industriale e a un certo punto ho uno strumento che mi avvisa automaticamente se qualcosa fallisce beh, questo è un esempio semplice ma è giusto per intenderci dunque questi principi quelli che abbiamo riportato i dati e la capacità di estrarre informazioni utili da essi sono da ritenersi un investimento strategico di primaria importanza questo è l'assunto di base certo perché se hai i dati ma non li analizzi non li sai analizzare non investi nell'analisi dei dati stessi non hai niente è solamente qualcosa un cumulo di terabyte che occupa spazio fisico su dei dischi e basta quindi i dati e i dati stessi a volte se non sono raccolti direttamente da noi possono anche essere comprati si possono fare investimenti per raccogliere dati si possono fare campagne di prova per vedere come reagisce il mercato target e quindi raccogliere dati è un investimento chiaramente però sono investimenti che oggi come oggi sono vincenti fanno la differenza perché o si capiscono quelli che sono i trend le regole le dinamiche nascoste che sono tutte raccontate dai dati volendo sono tutte racchiuse di dentro oppure non si riesce a essere competitivi in un mercato che è pieno di competitors che spesso è saturo che assume dinamiche spesso sempre più complesse visto che viviamo in un'epoca digitale fatta di connessione un'epoca social punto 2 il lavoro di estrazione di informazioni utili dai dati per risolvere problemi di business può essere trattato in modo sistematico seguendo un processo dotato di fasi piuttosto ben definite vedremo un esempio nella slide successiva piuttosto è in corsivo è perché è in italico perché c'è sempre un po' di creatività nell'affrontare un problema ogni problema legato ai dati è un problema fondamentalmente tra virgolette nuovo a se stante perché per quanto si faccia rientrare in alcuni metodi tecniche principi di base che quelli sono però c'è sempre quella componente umana c'è sempre quel rumore di fondo dato dalla specificità dell'azienda dell'ambiente del settore che rende ogni caso un caso nuovo a se stante un po' come in medicina c'è sempre quella variabilità data dal sistema biologico ecco nel mondo dei dati questo avviene regolarmente ed è per quello che data science richiede anche un po' di creatività perché non posso avere uno strumento sempre pronto sempre identico ma ho delle competenze ho degli strumenti e dato un problema mi destreggio capisco quali strumenti utilizzare come utilizzarli aggiusto le cose capisco le persone capisco l'ambiente quindi ci vuole sempre un po' di pazienza e creatività punto 3 data una base dati sufficientemente grande è possibile utilizzare metodi analitici per individuare entità di interesse e attributi descrittivi per esse sì questo vuol dire banalmente che se io ho tanti dati una base sufficientemente grande di dati ok io posso guardarmelo e rigirarmelo bene questo insieme di dati fare delle analisi e trovare quelle che sono le entità di base e quindi parlando in modo matematico potrei dire posso trovare gli autovettori del problema ok posso ridurmi a trovare quelli che sono veramente i driver che sono basilari nel creare questa mole di dati quelli che sono veramente i tratti principali salienti massimamente descrittivi del mio insieme di dati e poi trovate questa entità di interesse attribuirvi associare ad esse degli attributi quindi ogni entità di interesse può avere n attributi che lo descrivono ok quindi nel mercato dell'automobile pensate a una macchina quanti attributi può avere che la descrivono e questo processo descritto dal punto 3 è basilare perché sottende a quella che è la creazione di qualsiasi tipo di database serio quindi non foglie excel ma database relazionali o eventualmente nel caso di big data database non relazionali però comunque dove le entità di base vanno individuate e caratterizzate molto bene altrimenti sarà sempre impossibile o comunque difficilissimo andare a creare report analisi e capire cosa veramente è racchiuso a livello di informazioni nei dati poi punto 4 che è un problema un'analisi troppo approfondita e specifica su un dataset produrrà sì qualcosa ma potrebbe non essere capaci di generalizzare oltre lo specifico dataset ovvero questo si chiama overfitting cioè se io ho un dataset e comincio a fissarmi in modo proprio maniacale su questo dataset me lo giro in tutti i modi esagero con le analisi faccio analisi super specifiche su questo dataset rischio di diventare un super specialista di quel dataset ma di ottenere informazioni idee risultati che non sono assolutamente di generalizzare ad essere quindi applicate a un nuovo dataset formalmente uguale proveniente dallo stesso settore dallo stesso business eccetera eccetera ma è diverso perché sono altri dati quindi devo stare attento non devo esagerare devo avere quel giusto metro di analisi che mi permette di ottenere a partire da un dataset delle conclusioni dei modelli che siano poi applicabili a quell'area di business perché lavoro per quello non per conoscere vita, morte, miracoli di un dataset e allo stesso modo punto 5 formulare soluzioni di data analysis e valutarne i risultati richiede di valutare attentamente il contesto in cui il lavoro deve calarsi ovvero domain expertise quello che avevamo visto all'inizio conoscere l'ambito in cui il lavoro di analisi il modello che andremo a sviluppare deve essere poi applicato perché senza questa conoscenza facciamo castellinari facciamo numeri del telefono realizziamo strumenti meravigliosi totalmente inutili questo è basilare perché ed è un errore che facilmente viene fatto dal professionista singolo per esempio lo statistico può produrre un modello statistico impeccabile da pubblicazione che fa poi eco per anni e anni nel mondo della letteratura scientifica ma inutile per l'azienda che ha commissionato il lavoro perché è perché è troppo teorico perché non risolve il problema che ha il tecnico che ogni giorno lavora sul campo in quel contesto idem l'informatico può fare un software meraviglioso peccato che non rende le analisi grafici le informazioni che ha bisogno il manager ok e così via quindi bisogna sempre assolutamente prendere l'analisi dal punto di vista dei dati ma poi calare tutto in modo tale che venga sempre rispettato quello che è l'ambito di utilizzo del modello del risultato del lavoro che è importantissimo questo e scusate torno un attimo indietro punto 2 diceva ci sono dei processi ecco questo è uno dei più famosi degli schemi più famosi dove vedete al centro ci sono i dati perché dal punto di vista del data scientist è quello dei dati ok poi prima cosa bisogna andare a capire quello che è il business quindi business understanding perché se non capisco con che cosa ha a che fare è inutile è inutile una volta che ho capito il business ok devo capire i dati ok questa è la tua area di business queste sono le tue regole di business è il tuo mondo tu vivi in questo mondo con che dati hai a che fare cosa mi stai dando cosa mi stai passando perché può essere che i dati che tu mi stai passando non siano completi o siano mal strutturati non siano cioè è mio compito come data scientist andare a capire se i dati che mi stai passando innanzitutto che cosa hanno dentro seconda cosa è se sono idonei ad affrontare quello che è il tuo business perché può essere che no può essere che magari richiedano una piccola integrazione può essere che siano raccolti male ok superata questa fase c'è una fase di preparazione dei dati lì a quel punto è una cosa un po' da informatico diciamo perché tipicamente i dati vanno puliti vanno sistemati vanno deduplicati vanno normalizzati vanno raccolti in una struttura che può essere un database relazionale o non relazionale però comunque vanno strutturati in modo tale che poi l'analisi e quindi la fase di produzione del modello sia agevole coerente consistente e ripetibile ok quindi passiamo alla fase di modeling cioè la fase in cui oggettivamente vanno dentro più attività dove c'è proprio il quid dell'attività dei data science quindi viene sviluppato il modello predittivo viene fatta l'analisi statistica vengono svolte analisi di SPC cioè mille cose che possono essere svolte a punto di vista di modellistica matematica e statistica stanno nel modeling appunto dopodiché il lavoro viene valutato quindi evaluation vedete che c'è una freccia che va da evaluation se ne torna a business understanding è certo perché appunto il lavoro il risultato del lavoro va calato poi necessariamente nel business nel mondo del business da cui siamo partiti perché sennò è inutile l'abbiamo fatto per la gloria e non per lavoro quindi se tutto va bene posso passare alla fase di deployment cioè ok perfetto questo è il risultato questo è il prodotto del mio lavoro e ok lo mandiamo in produzione quindi adesso entra a far parte dei valori aggiunti dell'azienda ma diversamente mi ritrovo sbalzato a business understanding e riparto da lì vedete peraltro che esistono anche delle frecce che tornano indietro anche da data understanding a business understanding e da modeling a data preparation certo e tutto questo è dentro a una freccia circolare sì perché il modello di analisi a cascata cioè seriale parto da un punto A e arrivo a un punto Z non tornerò mai indietro non è applicabile in questo settore nel modo più assoluto perché fondamentalmente è impossibile capire a tal punto un ambito di business tale da non doverci mai più tornare sopra perché ormai sappiamo tutto è impossibile perché molto spesso e non è arroganza ma è esperienza purtroppo molto spesso ma è naturale tra l'altro che sia così succede che quella fase di business understanding non ce l'ha chiara neanche l'azienda molto spesso perché si rendono conto facendo seguendo il lavoro di analisi nelle sue fasi che effettivamente magari c'era un qualche aspetto che era sottovalutato c'era un qualche aspetto che non era noto spesso sono piccole cose chiaramente però sono piccole cose che possono fare una grossa differenza e quindi tutto questo processo che è assolutamente circolare è un processo di crescita per l'azienda è un enorme processo di crescita per l'azienda perché permette di capire ogni aspetto della business e di dargli una strutturazione utile ripetibile mantenibile nel tempo capace quindi di tenere un monitoring più sfruttabile più completo più gestibile di tutta quella che è la fase di lavorazione qua un altro schema copiato da uno degli articoli più storici sull'ambito del data science vedete il mondo reale raccolta dei dati processo dei dati pulizia dei dati un po' di data analysis per cercare di esplorare i dati quindi capire che cosa abbiamo a che fare e poi così via vedete che c'è una frecciata in basso a destra che porta verso make decisions quindi prendere decisioni perché lo scopo di tutto il processo di data science è quello di aiutare l'azienda a prendere decisioni a capire cosa sta succedendo a capire cosa potrebbe succedere e muoversi di conseguenza poi vedete invece a sinistra in basso build data product quindi eventualmente la realizzazione di un prodotto prototipo chiamiamolo prototipo basato sui dati cioè centrato sui dati che prende i dati e ne crea informazioni quindi informazioni che poi vengono ribaltate sul mondo reale chiaramente sempre quella fase importante in cui il lavoro deve essere poi ricalato sul mondo reale questo è basilare ma quindi il data scientist passa la vita la notte i weekend le festività a studiare beh studia il più che può chiaramente ma da solo una persona non può avere un'esperienza completa su tutti questi settori vedete per esempio immaginiamo di prendere un data scientist e dirgli ok dai dimmi fai una valutazione oggettiva di quello che sai nei vari settori e lui gli dà dei valori e facciamo una bar chart sulle competenze di un single data scientist quindi questo esempio questa persona è particolarmente schillata in statistica quindi anche in matematica sa un po' pochino di settori specifici di comunicazione un po' programma sì però non è particolarmente il suo punto fondamentale eccetera ovvero bello avere un data scientist ma ancora più bello avere un team di data science perché tipicamente infatti le aziende grosse che sfruttano che hanno abbracciato questa filosofia questa disciplina questo approccio innovativo e vincente sui dati hanno dei team di data science dove appunto sommando i bar chart delle singole persone si ottiene un team un team che quindi guadagna in skill sui vari settori e tipicamente infatti si lavora così però la cosa di base è che fondamentalmente si cerca di far sì che tutti quanti abbiano comunque almeno un'idea un'idea seria di che cosa siano i vari settori in modo tale da poter avere una visione di insieme dell'attività e del lavoro della squadra questo è importante perché avere una persona che non ha idea della domain dove si va a lavorare è un problema perché continuerà a produrre soluzioni che sono fatte per la gloria scientifica per il piacere di risolvere il problema eccetera invece no questo non è possibile avere una persona che conosce benissimo il settore ma non ha la ben che minima idea di quali siano le problematiche tecniche i metodi cosa possono fare i metodi e non va bene neanche quello perché continuerà a spingere verso il risultato il risultato il risultato che se era un approccio che poteva funzionare una volta adesso bisogna stare attenti perché si rischia di produrre enormi enormi cavolate quindi per esempio abbiamo fatto un modello di regressione bene abbiamo un modello di regressione adesso usiamolo per predire come andrà il mercato come andrà il processo per il valore 100 e la risposta dello statistico è ma no non posso perché ho raccolto dati da 1 a 10 non posso usare un modello di regressione per fare una predizione a 100 perché non ho idea magari lì il modello non sarà neanche più lineare magari lì è esponenziale magari non è definito non posso saperlo però se chi fa la richiesta di usare il modello a tutti i costi non ha idea che effettivamente la matematica ti dice che quello che vuoi fare è sbagliato non si può fare si va incontro ai inutili discussioni tempo riunioni insistenze quindi è bene nel team di data science avere una visione di insieme tutti quanti di quello che è il problema poi ognuno a modo suo perché chiaramente guardate qua questo graficetto questa rappresentazione il businessman gli basta conoscere molto bene appunto l'area di business vedete primo rettangolone in alto a sinistra in orizzontale sopra abbiamo i diversi profili quindi il businessman il creativo lo sviluppatore il ricercatore e in verticale a sinistra abbiamo appunto l'area di business il fatto di conoscere machine learning big data matematica la programmazione statistica quindi ogni profilo può conoscere in modi diversi le varie materie però qualcosina nel team di data science qualcosina tutti lo devono conoscere e questo è un po' il senso della materia quindi abbiamo visto che data science è una disciplina che nuova nuova relativamente nuova che inserisce nell'azienda un punto di vista innovativo che è quello dei dati che prende questi dati li struttura li guarda li analizza con metodi principi e strumenti che vanno dalla statistica all'informatica ok con una buona dose di creatività anche spesso e volentieri e estrae da questi dati delle informazioni le informazioni sono informazioni utili i dati sono dati cioè numeri record sono cose che all'essere umano non danno nulla perché i dati non sono leggibili non sono interpretabili sono le informazioni che diventano utili e permettono di fare di prendere decisioni migliorare il business lavorare sul margine queste cose quindi questo è il senso però per fare tutto ciò non è più sufficiente essere solo un ottimo informatico un ottimo statistico un ottimo manager occorre avere un approccio interdisciplinare cosa che peraltro esiste già in altri settori da tempo perché è normale per esempio che un biotecnologo conosca la chimica la biologia e un certo set di processi industriali è normale che un medico che lavora con strumenti di diagnostica conosca anche delle parti delle tecnologie e metodologie fisiche perché ha a che fare con radiazione e strumentazione fisica ok tipici della fisica eccetera eccetera così come ingegneri di settori particolari vanno a conoscere discipline complementari all'approccio ingegneristico e così via e così via quindi spero con questo di avervi dato una di aver avuto un approccio assolutamente solo divulgativo su quello che è data science un tipo di servizio che che rientra in ciò che noi svolgiamo che possiamo fare in partnership o come consulenza e e soprattutto di aver messo l'accento su quella che è l'importanza della corretta gestione e analisi dei dati e con questo vi ringrazio moltissimo per aver seguito fino a qua per la curiosità che avete avuto verso questa disciplina ovviamente rimaniamo più che mai a disposizione per chiarimenti approfondimenti ragionamenti anche brainstorming insieme a voi su quella che è la vostra realtà e quindi quello che si può eventualmente provare a fare nelle vostre aziende e vi do appuntamento al prossimo webinar che per quanto riguarda il calendario potete trovare tutto quanto sul sito di gmsl gmsl.it grazie ancora e buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.